Nova Eroca a Gran Sasso è il nuovo evento all road nel cuore dell'Appennino che si terrà il prossimo 8 giugno. Occasione unica per scoprire un territorio ricco di natura e storie, in sella alla bici e all'insegna dell'avventura. Si toccheranno scenari selvaggi e mozzafiato del Parco Nazionale del Gran Sasso, percorsi che si snodano tra valli e altipiani, sugli antichi tratturri, le strade bianche usate sin dall'antichità per la transumanza delle gregge e che toccano i borghi più belli. La terza edizione della Nova Eroca a Gran Sasso è stata presentata oggi in Regione. La novità è che quest'anno si toccherà anche la piana di Navelli, cicloturismo non competitivo, con la possibilità di poter degustare i prodotti del territorio grazie a nove ristori nei territori attraversati. Un'edizione che va a crescere, abbiamo già circa 400 iscritti, mancano ancora 10 giorni, quindi confidiamo in un numero maggiore, soprattutto dettato magari da una previsione del tempo meteorologico, quindi positiva. I percorsi sono quattro, riproponiamo gli stessi percorsi che hanno avuto successo negli anni addietro. Per tutte le gambe, in un certo qual modo, un percorso più soft da 59 km fino a un percorso più hard di 134 km per chi magari si vuole misurare e scoprire tutte le bellezze del nostro territorio. La novità di quest'anno è che il percorso lungo, quello che ho appena citato, coinvolge i borghi della piana di Navelli. Arriveranno ciclisti da ogni parte del mondo che potranno così conoscere l'Abruzzo. Inoltre i percorsi saranno anche infrastrutturati. C'è la regione sempre ampiamente promossa e sostenuta, come abbiamo finanziato gli interventi di infrastrutturazione di questo percorso, che partiranno proprio quest'anno e che daranno una prospettiva nuova e più ampia alle prossime edizioni. Quindi queste prime edizioni si sono percorse sui tracciati attuali, ma stiamo appunto insieme agli organizzatori, abbiamo proprio studiato il percorso o almeno uno dei percorsi che resteranno come lascito, come eredità, come struttura permanente che ogni giorno dell'anno e per tutto l'anno consentiranno ai turisti, agli appassionati delle due ruote di avventurarsi su queste strade con scenari incomparabili. Grazie.